Siete pronti? È già l'ora di andare sul bicchetto. Siamo pronti, sì. Andiamo? Calma, un attimo. Siete pronti. Siete pronti. Siete pronti. Siete pronti. Siete pronti. Siete pronti. Per chi è? Il mio. Ma che ti frega? No, non io. Ma va a cagare, va. Siete pronti. Quindi di forte i punteggi che non abbiamo capito chi ha vinto e chi ha perso. Siete pronti. 10, dai. Marciamo a 10. 22. Come sono i punteggi? Pittaluga 34, Lazzaroni 23, loro due non li so ancora, vicini 27 e lo giudice 23, perfetto io e te andiamo a fare la sfida Discreto, bravini, sopra il gazebo